o drettina togliti dal calendario amore che dobbiamo aprirlo vieni tutti oggi partiamo da massari come ha detto cristian perché ormai non abbiamo più nulla da aspettarci 18 18 18 eccolo qui secondo me oggi gelatine tec ma quante ne sappiamo amore queste le metteremo nel pacco per mamma e papà visto che papà ama le gelatine non le mangia da tanto due non gli faranno di certo male perché una volta gli regalai una scatola intera se la mangio tutta insieme inutile dire che è stato male quindi stavolta ne mangerà solo due di ginione nazionale a proposito ma ieri non ve le ho fatte vedere le piccoline che hanno fatto il bagnetto guardate qui ho drettina come è fluffettina e anche dittatina è proprio cashmere puro ragazzi wow la morbidezza la mattinata l'abbiamo iniziata guardando subito il film dell'avvento di oggi ovvero il diario segreto di noel classico film natalizio di netflix però carino in te lo aprirà cristian anche io l'ho subito trovato evviva un altro 85 mi sa che ancora dobbiamo mangiarlo l'altro che abbiamo drettina pancetta all'aria andiamo con il calendario dei baci dai oggi vogliamo il fondente oggi vogliamo il fondente amore 18 18 18 dov'è fondente ogni volta che apriamo i calendari ripetiamo sempre la stessa cosa ovvero che quello l'int alla fine si è rivelato il migliore in assoluto ogni tanto mi ricordo ogni tanto no apriamo il calendario di vera lab oggi 18 ultimo giorno per ordinare ricevere i tuoi prodotti oggi ci sono le spese gratuite ok va bene grazie pranzo in super orario è l'una e 10 mangiamo al volo e ci prepariamo per uscire ci siamo fatti anche un po di pizza riscaldata al forno da accompagnare alla zuppa di cavolo e fagioli oggi a roma è proprio una bella giornata guardate qui e guardate che carine le zampine dei gattini che salgono sulla macchina stiamo andando al massimo per vedere da primark se troviamo sia i pantaloni del pigiama per me che avevo visto però ho fatto una scoperta un po triste ovvero che i pantaloni a strisce da elfo bianche e rosse sono da bambino quindi devo capire se effettivamente c'è una taglia grande che mi possa stare oppure devo abbandonare ogni speranza in più passeremo al bam sempre del massimo era ok sempre all'interno del massimo non ricordavo nel quale andammo tanto tempo fa e nel quale troviamo uno stand di spezio bene a fantasmagorico se ci saranno ancora ve lo riprendo assolutamente perché vale proprio la pena vederlo arrivati al massimo meno male abbiamo trovato subito parcheggio quindi direi che ci reputiamo molto fortunati e sono super contenta perché già mi stavo preoccupando di tutta la gente che abbiamo visto adesso cerchiamo di sbrigarci di fare il prima possibile perché a me i centri commerciali quando c'è questa calca proprio lasciamo stare esperienza al massimo finita abbiamo già messo dietro le buste perché vogliamo fare una tappa all'outlet di castello romano ok perché ha aperto starbucks visto che siamo di strada comunque dista 20 minuti e poi di ritorno per tornare a casa ci aspetteranno altri 40 minuti di macchina a questo punto passiamo così lo riproviamo vabbè tanto già sappiamo che non ci piacerà che ne rimariamo delusi però anche per farlo vedere a voi insomma spero che ci siano i sinnamonnini così li potremmo comparare con quelli di leleven e assolutamente prima che finiscano questi vlogmas vi dobbiamo portare da leleven e vi dobbiamo far conoscere i sinnamonnini del nostro cuore arrivati al mc arthur glen di castello romano siamo in attesa di una famiglia che dovrebbe uscire acceso le luci così abbiamo trovato parcheggio proprio di fronte all'ingresso ma che siamo diventati gemmina e sesa aiuto quasi quasi invece di starbucks io andrei da signor vino però ormai ci siamo siamo arrivati proviamolo dai almeno i tavolini sono liberi sia io che christian abbiamo visto questa tazza e ce la portiamo a casa perché è proprio da noi semplice classici colori di starbucks ma con il logo non troppo visibile insomma bella viene 9 euro onesto ogni volta da starbucks ne succede una a parigi ero fabibla oggi il tipo che ci ha servito ha gridato per tutto lo starbucks fabiola e addirittura una sua collega si è girata dicendo fabiola abbiamo già provato a tastare il cinnamon swirl dire che è un sasso un piccolo mattone sì esatto andiamo all'assaggio vai amore a te l'onore non è malaccio sembra non avete presente quei paninetti quelli tipo di pangocciole nulla a che vedere ma assaggiamo il gingerbread latte a proposito abbiamo scelto quello visto che era tema natalizio senza panna naturalmente perché a me la panna sopra le cose calde e poi si scioglie diventa acida ti lasciando in bocca quel saporaccio proprio anche no sta di latte di soia con un vago retrogusto di qualcosa però di indefinito non che ci aspettassimo niente confermiamo quello che abbiamo sempre detto di starbucks sostanzialmente anche il costo quasi 10 euro per il latte e il cinnamon abbiamo aggiunto 40 centesimi di differenza per il latte di soia almeno apprezzo che si possa fare la modifica cioè preferisco pagare 40 centesimi in più piuttosto che non avere neanche l'opzione però sì 5 euro e 40 un furto e cinnamon di l'eleven li paghiamo 2 euro e 50 che si è tanto però quelli non sono surgelati sono fatti tutti i giorni al momento e hanno un gusto unico oggi non ci facciamo mancare nulla per la serie o tutto o niente che caratterizza la mia vita abbiamo fatto maximo castel romano ora siamo a porta di roma dobbiamo fare ikea le rois merlaine coin e spazio conad per vedere se troviamo qualcosa da bere in offerta a sorpresa a porta di roma abbiamo trovato i mercatini di natale abbiamo preso il vin brulee anzi come c'era scritto nel cartello il vin brulee adoro e poi abbiamo preso dei taralli pugliesi e del pane vi mostriamo tutto una volta arrivati a casa adesso faccio l'assaggio del vino in disparte da tutta questa massa di gente vi farò sapere com'è anche se mi sono pentita un secondo dopo averlo acquistato ho preparato il battuto di alici aglio aceto rosso olio e pepe da mettere sulle puntarelle vi volevo far vedere questo momento secondo me speciale in quanti le hanno provate di voi le puntarelle perché ho fatto una scoperta che mi ha un po' destabilizzata ovvero che in molti neanche le conoscono ragazzi andate alla ricerca delle puntarelle perché sono un qualcosa di divino cenetta pronta abbiamo mozzarella light condita solo con un po' di pepe pizza bianca e puntarelle provate questa combo perché è veramente eccezionale ma che bella tittatina sul tavolo di vetro che neanche ha paura vedendo il luoto sotto bravissima titti qui stiamo nella pace dei sensi abbiamo mozart in sottofondo sapete che vuol dire la serata perfetta stiamo ballando giuro che ancora non abbiamo bevuto niente adesso stiamo facendo il nostro momento rummettino ovviamente sempre goccininini con un po' di cioccolata tra quelle che abbiamo c'è chissi anche sta scegliendo quale vuole praticamente uno di tutto qui c'è il teschio bellissimo lo amo non se n'è mai andato da halloween dovremo metterlo via prima o poi amore per la tavola di natale possiamo mettere il teschio con il cappello di natale adoro ormai è diventato parte della famiglia quel teschio la giornata è ancora lunghissima per noi che stiamo registrando e quindi per voi che guarderete questo vlog praticamente infinito perché vi devo fare ancora l'haul delle cose che abbiamo comprato poi dobbiamo chiudere il pacco vediamo se non facciamo troppo tardi altrimenti chiudo il pacco con voi oggi e poi domani vi mostro lo shopping fatto c'è tanto da fare però sono contenta devo dire che quando non ho nulla da fare sono completamente apatica quando ho tanto da fare invece sono sempre più motivata a fare ancora di più quindi va bene così mi raccomando non si sbatte mai quando si fanno i brindisi da galateo il bicchiere non si deve toccare e non deve mai superare l'altezza della spalla quando si sta richiamando l'attenzione per fare il brindisi fatemi sapere se volete dei video a tema galateo devono arrivare da anni però chissà magari questo è l'anno buono guardate che tipo da spiaggia dopo il bagnetto sono qui pronta per incartare i regali vediamo se è vero come in tutti i video di tik tok e di instagram che quando qualcuno prova a fare i pacchetti regalo con i propri animali non ci si riesce ecco appunto mi sembra che stia andando tale e quale a tutti i video che ho visto no non è vero loro sono molto più brave ma no vabbè sta infilando nel pacchetto odri ti spediamo allora grazie odri grazie attenzione cacca è via se io già non sono mai stata una cima a fare i pacchi mettiamoci anche la difficoltà di avere odri e tiffani in mezzo speriamo che mamma capisca primo lato fatto dovrei imparare a capire quanta carta serve ovviamente finito questo pacchetto continueremo a farli off camera perché sennò mi viene un registrato di 15 ore e mezzo non mi sembra il caso tuteliamo la fabbiola del futuro che sta editando questo video per quanto riguarda coccarde eccetera vanno ancora comprate qui a no scherzo non ci saranno perché domani deve partire il pacco visto così il pacchetto non è male visto da di qua un po peggio però poteva andare molto molto peggio noi continuiamo e poi vi farò vedere una volta che andremo ad inserire tutti i prodotti nel pacco cosa stiamo spedendo vi mostro il pacco che christian ha creato praticamente abbiamo girato una scatola che avevamo ricevuto in uno degli ordini che abbiamo fatto ultimamente perché se spedite composte vogliono una scatola esterna pulita cioè non ci devono stare altri disegni scritte eccetera boero preferiti da papà forse sono troppi magari questi li apriamo gliene mettiamo un po sparsi come per le fiesta ne avevamo comprate un pacco ne sono avanzate quattro gliene mettiamo quattro altrimenti lui è capace di finirsi il pacco moncherie questi piacciono ad entrambi quindi pacco da mi sembra 30 sì esatto lenticchia di castelluccio proprio oggi mamma ci stava raccontando che non le sta trovando da nessuna parte ma noi già ci avevamo pensato prontamente insieme al cotechino fierucci che tra tutti quelli provati è quello che ci piace di più ricciarelli classici che a loro piacciono a noi ultimamente sinceramente non stavano più piacendo perché li troviamo troppo dolci in fondo vedete un qualcosa di familiare ovvero il calendario dell'avvento dei baci si arriverà un po in ritardo quindi praticamente avranno 24 baci tutti insieme da scartare torrone morbido con le mandorle della sperlari anche questo gigante forse abbiamo un po esagerato qui abbiamo la grappa nonnino preferita di mamma da mettere un goccino nel caffè siccome papà è goloso di caramelle gommose abbiamo deciso di mettergliene tre questa l'abbiamo trovata oggi queste due invece abbiamo aperto due caselle dei prossimi giorni tanto sull'etichetta del calendario c'era scritto e gliele inseriamo poi andiamo a mettere all'interno anche due boccettine di sambitter adesso cercherò poi di incastrarle questo qui al passion fruit questo preferito di mamma abbiamo sempre fatto l'aperitivo con questi sambitter qui quindi visto che oggi li abbiamo trovati abbiamo deciso di mettergliene due perché sicuramente non li troveranno da ikea invece abbiamo preso questi sacchettini qui con i fiocchetti sono i sacchetti per alimenti nei quali andremo a mettere dei datteri per finire panettone delle tre marie adesso ci ingegniamo per fare entrare tutto qui dentro almeno il pacco alimentare invece qui abbiamo i pacchetti dove ho scritto per mamma per mamma per mamma per papà bene così poi andremo a mettere questa scatola e questi pacchi nella scatola più grande che sarà poi quella che useremo proprio come scatola esterna da spedire ovviamente anche questa adesso christian l'andrà a scollare rigirare e richiudere batteri pronti ne abbiamo messi 14 per chi ci conosce saprà il motivo andiamo a metterli nell'ultimo bochino rimanente guardate qui che precisione tutto chiuso alla perfezione adesso chiudiamo questo guardate sembra proprio la sua scatola stupendo magari incartiamo questo pacco che andremo a mettere con la carta regalo così da renderlo un po più carino alla fine abbiamo fatto mezzanotte meno 5 e abbiamo trettina che sta giocando con il suo giochino ed ora sta arrivando tittatina con christian era rimasta nella cuccetta perché non ci aveva sentiti venire qui aiuto noi vi diamo la buonanotte per mezzanotte volevo già dormire e soprattutto ero convinta di riuscire ad editare un pochino prima di mettermi a letto invece col quasi spero che il video vi sia piaciuto se così è stato mi raccomando lasciate like e iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i nuovi video che arriveranno come sempre vi mando un bacione noi ci vediamo domani con un nuovo vlogmas ciao